L'ora forza! Devo dire avvicinare ancora lui È ora L'ora forza? Sì L'ora forza Quindi Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Sì, c'è un bel rai. E tu mi ricordo, questa qui. Quella è tra il dietro in cuore. Oh, siete erdi, la stacchetta si... Sopra. Sopra, qui va. E ora che la sa? Cosa? Quello. Grazie a tutti.